Eccoci ragazzi, bentornati con Resident Evil 5 e Iris e Giro ovviamente Ciao Lou, no Giro l'abbiamo ancora trovata veramente Nel senso io ne panni, va bene Balsa, Balsa, chiudiamo, chiudiamo, alla prossima Vabbè, iniziamo va Ci aspettano tanti altri leaguers No C'è la certa forma girevole Scusa, mi hai detto tu, facciami il gameplay di Resident Evil 5, facciamolo La morte di ogni precisione mai conosciuta dal genere umano No, non è qua adesso Non ci sono i leaguers adesso? Non so, non mi ricordo, non lo so, sono confusa Non so neanche cosa ho raccolto Niente, perché ti ho fregato tutto Grazie, grazie Ho visto che ti sei ricaricato, grazie Senta Grazie Giugente Giugente Bene, ho preso il muro, ho preso il muro Io non ho parole, per quanto faccio schifo a mirare È quello L'ho, come l'ho preso, devi vedere sto pezzo Iris Devi vedere come l'ho preso Ma non vedo niente L'avrei preso in testa, sto poraccio Sì, ma devi vedere come l'ho preso in testa Ho perso la testa per te Dovevi ridere qua Va bene Era una battuta bellissima È stata rovinata È l'atmosfera che l'ho uccisa Da te Mi spiace Ero concentrata, Iris Ero concentrata Non volevo Ti torcessero un capello Mi ritengo offesa Basta Che fa questo? Sta ferma Ah beh 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 Oh, non l'ho preso Guarda che arriva quello lì col coso E vabbè, ho sparato al muro Interessante Intenta Iris Non so se l'ho preso Oh, sono morente Gli affari miei non ero capace di farmeli Vedo gente Ma poi è ancora vivo? Cioè io non ho parole Via 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 Ok Questa è passato Sì Direi proprio di sì E ci dà le munizioni per la pistola Va beh Deve dovrebbe esserci l'arba No, non c'è niente Senti, ma le vuoi un po' di munizioni del tuo? No, no, ne ho abbastanza Grazie Poi c'è un'arba Ma non riesco a prenderla Perché sono full Sì Sei full HP? Sì, mi do 80p Dimmi Volevo darti Vieni Mi dà le munizioni alla pistola Tanto lo so Oh no? Ti do anche questo Questo è un full Va bene Che faccio Lo ingorda? Iris Io sono altruista Trista? E' pure infelice o sono altruista? No, ho detto altruista, non triste Ah, scusami Oh, lolololol Iris Uh, magnum Ricorda, mi raccomando, di prendere dell'erba verde Sì, ho un giochino qui Crippio Dicevamo Sì, ma io ho sparato e stavo cercando di abbassarmi Alla tua sinistra, cioè a sinistra c'è un'erba verde Se riesci a prenderla Magari non si può morire, però Vedi che non moriva Sto morendo io adesso, molto bene Vai a prendere l'erba a sinistra Ma c'è quello lì che spara Eh, ho capito, ma Bravo Ora non c'è qui Permesso Via Non c'è nessuno, però, adesso Mi pare Sì, mettiamoci qua, però, a fare questa operazione commerciale Vieni Arrivo Ciao, ci sei? Ok Ok, tieni, perché non ne hai Vedi che non si mette contro il muro? Vabbè, io non... Il riso che si sta infartuando È un complotto Uh, qua c'è roba Già mi tolgono tutta l'energia Passa Guarda che tirchio questo qui non ho lasciato Uh, nata o denata Niente Che infamia Qui è pieno di monete inutili Oh caldo Hurry Come on Chi sa se ce la faremo Ce la dobbiamo fare per forza Guarda che inquadratura tattica Guarda caso intercettano la loro, insomma, comunicazione Lo so Albert, non vedo l'ora Sì, sì Hai capito la Xela Scusa, ti hai salvato Gil perché non si poteva salvare anche Albert, fammi capire Che logica stai usando, Chris Ad Alberto Wesker Ok Erba L'ho rinominato È più bello ad Alberto che Albert Um, no Sì No, vedi che stavo tornando dove siamo venuti, vabbè Uh, soldi Uh, attenzione Cioè io ho parole nulla Bentordici colpi non li faccio niente Perché è un gioco B-E-L-L-O 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 Yeah, yeah Io ho partito, ho una munizione Che cosa le tiro a questi bickerzà? Uh, dai Non è vero Eh, volevo fare Usa l'erbetta Eh, lag Lag Iris 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 pensa a prendere il tesoro Io gli dico Una verba Eh, eh, lei Eh, no Un attimo Perché Ho fatto una skivenji Di quelle Poderose Vabbè Ma io le ho sparate Come se non le avessi fatto nulla Eh, quello che sta succedendo pure qui Morto A parte che mi sei rialzato tipo alla vista della luce Ma dai L'ho riarredato Capita Non ho lasciato un punto Questo qua dentro Ma nonna che infarto Eh, no Hurry Hurry Sempre gentile e accomodante Praise Dio Che palle Usa Bard Uh, qua è dove mi si Con la stupid Mi si incastrava scema Sì, ma io odio Tutta sta parte Sulla nave Ma non mi dire Adesso diventa noiosissimo Sto gioco Ok Che fa? Oh mamma Attenzione Pensi che ti metti sceva contro il muro? Mi prendono da casa di Cristo Perché sì? Ciao Velo Mi sono cercata Ce n'è uno anche là sopra? Dovrebbe essere ce n'è uno qui E ha preso il... Va bene Ciao Velo Uno ho visto uno arrivare dall'altro dai cieli Ma non voglio dire più che cosa è tua madre Nooo Mi sei, 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 mi sei dall'alto posto Dai scendi quella scala Iris E sto correndo Oh Jesus Nooo Sto facendo cerchio Io non ci credo Chris è morto Chris No parole Perché sto cercando di andare veloce Che mi ha rotto il cazzo Questo pezzo Ufff Rimuovi Ok Mi stai dicendo che è il su del mio contro... No, non è il su del mio contro... Eh? No No, stavo pensando che magari era il su del mio controller Che era un po'... Bleh Tasco su Eppure no Non vuole Ah ma io ho ancora poca energia Avrei dovuto prendere uno spray Io che ancora adesso dopo 25 ore che ci giochiamo sbaglio i casti Sono tutti morti o... Che palle Il problema è che mi annoia troppo Se ci... Guarda Io sono dietro alla cosa eppure mi ha preso Non si sa come Ok Ha lasciato un'erba dall'altro lato Non si vede più nulla Questo è moruto Dai cosa mi è arrivato qui? Va bene Va bene Forse è una granata... Ho capito però insomma Eh E chi è lo stronzo? Quello È messo in copertura Mamma mia Non c'è più nulla Qualcuno c'è sicuro C'è più C'è più C'è più che adesso non c'è più Ok Tanto c'è ancora musica Qualcuno c'è Deve essere il suo Intanto vedo se qua Riesco a recuperare quella verde Che hanno lasciato lì Sì 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 Datemi quella verde lì Per favore Non sparire Ma non tesi un'altra Uhhh di mangiù Mi vuole essere la mangiù Verde Non c'è qua Aspetta Secondo te troviamo una rossa breve Oppure Non ricordo Usiamo la pistola Grazie qua non c'era una scatola che è già testa, guarda qua questa roba buona, no, munizione della pistola ammunition saturation qua cosa c'è? ma va che non ce la fa che spacca una scatola sola una scatola questo è l'altro qua questo è l'altro qua no, 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 no no, no, no no, 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 no no, 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 no c'è un'erba rossa nell'angolo, porca voglia eh sì, eh ma non possiamo lasciarla là ma dove? non possiamo, non possiamo non possiamo attendi per favore attendere prego in fondo di là cioè l'ho vista dall'altro lato penso però si possa prenderla qua però di tutto in fondo qua sì, guarda il suo caso no, no dio santo dio santo mi son vista la granata addosso molto bene è solo che adesso io ho un piccolo problema come arrivo? Dove sei arrivata tu? non mi ricordo più devi fare il giro andare dall'altro lato è che ho fermato le casse in fondo dove hai preso l'alba verde devo salire sul nastro non mi ricordavo di già notiamo come il riso abbia la memoria a breve termine io ho quella dei pesci rossi si resettavano i 5 minuti non ho ancora i 5 minuti nome a culpa dovrebbe esserci l'erba rossa l'erba rotta sto dicendo rossa mentre avevi in mente l'erba verde non so come funziona il mio cervello se vuoi la c'è un'altra erba rossa in fondo tanto usa usa ma non ci sono i rippers da breve? oh mio dio non so allora a cosa stai sparando tu? a quei cosi rossi che mi hanno fastidio si ma ci possono servire però quei cosi rossi ma no mentre attraversiamo funziona questo ma vabbè va bene interessante questa cosa bye bye ancora? lassù attenzione arrivano da là spostati da lì eh se si apre il coso però si arriva giù sono qui ancora non muore ancora non muore veramente che infarto che disagio infarto no qua c'è la granita vabbè diciamo che ho già fatto visto che c'è un glitch no grazie grazie mano grazie non c'è niente solo miseria neanche un erbettino nope so schifo non lo voglio ok continuiamo adesso ci sono i ripper prego i tuoi migliori amici perché mandi me avanti perché tu sei la professionista dei ripper ma non è vero niente non lo sono mai stata e mai lo sarò ma cosa dici che li ammazzi con la pistola ma quanto cazzo ma quando io proprio non lo so a vedere video su youtube non mi pare eh non mi pare veramente io sono basita e ti seguo anche a vedere i missili lol è un bello spettacolo ui soldi ui soldi dammeli non c'era anche un'erba? l'ho presa li ammazzi tu i ripper dai non è giornata la mia no li ammazzi tu i ripper io non sono capace faccio schifo ma come io sono capace si ma come è che sto basta lavora fai qualcosa ti dico di no ti dico di no sfrutta la tua promaglia ma noi mi sono già morta non è serata non è giornata non è nulla sei morta perché non ho fatto in tempo arrivare io anzi vabbè ma intanto c'era l'Huginton che schifo sti cosi qua c'è il primo oh crebio e mi ha preso già guarda non mi ha dato manco il tempo di muovermi va troppo disagio ti dico di no ma come faccio andrà avanti io cosa li tiro al ripper ti stai pentendo di non aver messo la mia sinistra rimuovi di cosa ma no ma alla fine sono facili da fare ma non è proprio serata la mia non hai visto che sto insomma sono in coma basta basta ho detto che ti devi impegnare vabbè proviamo prende uno spray anch'io ma no io ho cambiato l'erba rossa tanto oh l'hai detto l'hai detto comunque è proprio partito incazzato il riparo posto perché stai facendo sto giro non lo so ieri starò detto che non ci sono con la testa e io ti seguo anche io ti ho il problema io ti seguo anche anche ti ho visto deve trasportarti praticamente sotto la scala bene benissimo bene ma non benissimo è un paio di giorni che mi sento rincoglionita al massimo è morto basta mi hai dato un paio di colpettini da dietro ci dai qualcosa? dacci i soldi grazie gentilissimo non dovevi disturbarti o forse si mi dispiace devo andare il mio ripere là purtroppo io l'apro questa perché si che apri? l'apro ma non ancora ho aperto la cosina va bene stami vicina così appena ci piglia la mia collana grazie di pirle la mia collana di pirle attenzione che adesso prendo la cassa in faccia no meno male bene bene a me è capitato che lì a prendesse la cassa in faccia ecco io lo spento perché ricordiamo la mia scema incastrata per sempre gli dicevo sceva sceva e lei I'm coming tipo credici credici sta arrivando credici io continuavo a vedere il cerchio questo cerchio qua che veniva avanti tornerai indietro e dicevo ma cosa fai scema ero alla porta da 20 minuti cosa fa sto scema vado a vedere e lei che correva contro la cassa no? e non riusciva a prendere il tempo che credito e vabbè può capitare forse no la deficienza artificiale proprio non so tutto quello che potrebbe prendere munizioni pistole vabbè prendiamole allora questo vuoi la roba del cecchino? no sono piena di tutto credo sto pensando questa granata se ce ne dobbiamo fare qualcosa vabbè lancialo al primo malcapitato vabbè è finito? ooooh che cosa? ooooh nooo ooooh c'è un roboroz io prenderò B comunque come moto bohoho be di brava be di bello be di beautiful be beautiful ecco delirio in 3,2,1 ha parlato la grande oratrice grazie per essere mutato con noi stavo scrivendo una risposta ooooh ooooh affascinante aveva lo stesso modello di Wesker li affiniglava ciao Jill sembra anche Zero di Zero Time Dilemma il terzo Zero Escape hai visto che sopracciglia enormi che ha Exella a livello di lunghezza vanno infinite vanno di moda tra l'altro è piena di soldi perché tra le pirle alle orecchie quella collana che peserà 20 milioni finanzia gli esperimenti di Wesker lo scarpe da rozzecchino eh il vestito sarà di Chanel minimo si può essere improbabilmente io non mi ricordo minimamente come si fa qua c'è un'arba c'è un'arba c'è un'arba qui c'è un'arba il rito c'è un'arba e non l'ho presa perchè non avevo spazio oh Jesus è ancora lì ma qui questi faccio bene a tirarli giù si oh grazie di questa erba rozza no non è rozza verde è pensato verde ma è una botte di messa va bene va bene come è successo a me prima esattamente allo stesso modo cos'hai preso? beh cioè io ho visto insomma ho visto l'impossibile ho preso uno spray mamma mia oh ho delle robe tentacole guarda caso c'è un lanciafiamme qui insomma che casualità che è il coso che è il coso prendi questo coso no prendilo tu anche io lo mangiare ma non lo prendi no prendilo tu non mi piace ma non so come si fa ti piace davanti e no shit da vicino devo senti vicino ecco arrosto arrosso di tentacoli ciao belli è rimasta un'altra palla vediamo se si avvicina qua magari questo coso qui non mi può prenderlo di queste cose e morire e si dispagano aiuto eh però non le piglia o forse li dobbiamo sparare mentre lui è vicino non me lo ricordo vediamo se non li piglia in goppa aspetta 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 che li ingloba secondo me secondo me no ecco lì visto ecco dobbiamo fare que tre cose eh di già ma ti ho già tirato bene eh qua ce ne stanno altre due vediamo allora il primo lo facciamo inglobare così appena escono con le altre due robe spariamo all'altro bastardo dove credi di andare eh vieni qua bello vieni bello aspetta che si avvicini aspetta ora tu hai scoppiato pure l'altro si att e ho preso tutto ho preso in un detto io questo cosa è pronto perché non si cosa sono praticamente in bocca a lui non è bello no oh merda le palle sono munizioni non ho più niente neanche da più per piangere ancora non crepa no hai questa usila usala sul di lui usila usala scusa eh tutto di te grazie è troppo difficile fare così sparagli col fucile alle palle appena escono ma escono ma lo è bastardo è qua è qua è qua è qua mamma che sberro ma che mignotaro solo quello può essere eccole le palle non ce la sto facendo non ce la sto facendo finito nada non muore non muore ma che non ce la faccia non ce la faccia attenta crebios non volevo dire come on no vai non le vedo non vedo niente cioè non vedo niente ce n'è una no io sto sparando a caso perché non vedo niente è la lì luminosa enorme ok no io vedo solamente arancione tutto basta dove andate qui tu bestia evidentemente ce la con me oggi stiamo insegnando 27 anni non muore mai non muore più non finisce più non è che stiamo sbagliando col cuore non c'è di caricato il cuore non c'è di caricata cosa oddio io sono in potenza devo scoprire un'altra palla ma non muore prendo l'unciafiamme io non vedo palla ma non capisco stiamo sicuramente sbagliando qualcosa la palla la palla la palla è rimasta solo quella vediamo se nel frattempo trovo altre munition ho trovato questa vabbè lo stronzo è qua a destra da l'altro lato che ne fucile a pompa pronto? dove sei? non ce l'ho qua non si sta formando foto di me aiuto oh incredibile non capo non ho più inizioni non ho più inizioni un fatto è stato letteralmente un fatto non moriva più ci abbiamo impiegato mezz'ora sì oh anzi con due morti non lo so due morti perché le ha contate tutte e due giustamente è vero è vero nel 6 sono separate effettivamente vabbè ogni tanto un po' di schifo sì nel prossimo c'è lo scontro contro Jill Wesker nel prossimo capitolo non voglio sapere non voglio ricordare bene li salutiamo sì che lo sai che lo vuoi sapere li salutiamo mi diamo appuntamento al prossimo episodio ciao 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 ciao